All'amore di Dio Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo La grazia del Signore nostro Gesù Cristo L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo Sia costitutivo e proprio sostitivo Alle solite condizioni Essersi comunicati alla Santa Eucaristia Aver ricevuto il sacramento della confessione E aver pregato per le intenzioni del Sonno Voluntem Preghiamo per il nostro Vescovo Antonino E per Don Maurizio Barea Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli Con un morto pericato in pensieri, parole, opere, autistica E voi fratelli di regale per me il Signore Dio nostro Dio Onnipotente abbia misericordia di noi Dio Onnipotente e a voi fratelli di noi Dio Onnipotente e a voi fratelli di noi E per il Signore suoi pollo Dio Onnipotente e a voi fratelli di noi Dio Onnipotente e a voi fratelli di noi con l'insieme il suo nome ho cercato il Signore ha fatto la sua dolce metà quella metà che non è solo qualcuno che ti sta a fianco e che ti regge nei momenti di gioia e di dolore ma che è il tutto per chi sta in me con me, per me dentro e fuori di me un amore che ti appogge così non si può lasciare andare non si può sciupare ma che ti appogge così non si può sciupare ma che ti appogge così e che ti appogge così non si può sciupare non si può sciupare ma che ti appogge così e che ti appogge così e che ti appogge così caso Don Maurizio leggendo questa aforisma giorni fa in qualche modo mi sei tornato in mente tu a tutto quello che effettivamente serve questa comunità ha un dono oggi e questo dono è sicuramente Don Maurizio che stai facendo? felissima guarda che bella stanza è buon esatto felissima non è tanto non è tanto non è tanto perché non si viene niente è cucito è buon esatto e voilà vi sei buona perché l'ha fatta non è che non si vede 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 bravo grazie auguri auguri grazie tanti bene faccio io aspetta 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 vai vai aspetta vi fanno una foto